ciao sono fabio e vi do il benvenuto sul mio canale calcio in flip flop oggi volevo dirvi le mie sette regole d'oro che mi hanno aiutato negli anni a guadagnare con le scommesse sul calcio così da poter aiutare anche voi ma bando alle ciance iniziamo regola numero 1 non approcciarti a questo mondo pensando che sia un gioco vedilo come un investimento a lungo termine un investimento che permetterà di farti guadagnare e qui solo se si guadagna ci si diverte regola numero 2 ci vuole costanza altrimenti il metodo non può funzionare vedilo come un secondo lavoro che non ti occuperà più di un paio di ore alla settimana ma dovrà impegnarti come per qualsiasi altra cosa regola numero 3 certo giocare in multipla dà la possibilità di guadagnare anche somme elevate ma statisticamente il rischio è molto grosso pari a giocare alle slot o alla roulette i match vanno giocati in singola così che le probabilità di perdita possano diminuire drasticamente regola numero 4 il bankroll ha un peso specifico elevato si deve partire da un minimo di 1 a 25 in poche parole se hai intenzione di investire 2 euro su ogni partita devi avere sul conto un minimo di 50 euro questo perché a volte molti match si giocano alla stessa ora devi essere sicuro di poter investire su tutti regola numero 5 non cambiare la cifra della puntata finché il tuo bankroll non è aumentato un errore comune è quello di investire più soldi su una quota più bassa rispetto ad una più alta nulla di più sbagliato le giocate devono essere regolari e devono avere sempre la stessa cifra potrai permetterti di alzarle solo quando il tuo bankroll lo permetterà regola numero 6 non vi dirò mai di registrarti qui piuttosto che lì ma per avere sempre le migliori quote possibili è necessario iscriversi su più siti perché anche il singolo euro fa la differenza se moltiplicato per tutti i match su cui si andrà ad investire settimanalmente mensilmente annualmente regola numero 7 faccio questo lavoro da 20 anni e grazie ai soldi guadagnati ho comprato case macchine ho investito in altri settori dietro ogni consiglio c'è un'analisi accurata non ho la faccia tosta di dire che sono infallibile ma sul lungo termine questo metodo ha sempre funzionato e continuerà a farlo perciò mi piacerebbe condividerlo con più persone possibili in modo tale che anche altri possano usufruirne non vi venderò mai book non sponsorizzerò mai società di comodo non vi chiederò mai soldi in cambio l'unica cosa che vi chiedo è di iscrivervi al mio canale e guardare i miei video sull'argomento e se possibile anche di confrontarci tramite i commenti perché per il momento il mio canale è visibile a tutti ma tra qualche tempo sarà visibile solo agli iscritti perciò cosa aspetti se non sai su chi puntare calcio in flip flop è la risposta